Nunzia di Gironamo benvenuta ben trovata è un piacere averti averti qui piacere mio essere qui con voi sono davvero molto molto contenta perché sei una delle donne più forti che io abbia mai incontrato e conosciuto una donna eclettica che ha ricoperto tanti ruoli diversi sei stata avvocato deputata ministro poi rilasciato la tua carriera politica conduttrice di grande successo ma anche mamma ma come fai eh infatti anche io me lo chiedo ogni tanto mi guardo indietro mi chiedo ma come hai fatto a cambiare così tante vite ma soprattutto guarda la più difficile essere mamma perché il ruolo più difficile che noi abbiamo è quello di essere genitori e da noi dipende la vita l'educazione dei nostri figli quindi è la cosa più complessa per il resto non dormo dormo poco lavoro tutto il giorno e da te che ce la fai nonostante il poco sonno senti prima di continuare la nostra chiacchierata abbiamo un filmato che ti abbiamo dedicato che ti racconta un po dal nostro punto di vista guardate l'ospite di oggi è un ex parlamentare è un ex ministra è un ex concorrente di ballando con le stelle è un ex opinionista di massimo giletti insomma ha più ex lei che vandana non sia mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda mi piace questa cosa che ti fa la domanda ti dà la risposta continui vorrei farti vedere la tua faccia dal spugnizzo napoletano con le mani con le mani con le mani ciao ciao con i piedi con i piedi con i piedi ciao ciao con la testa con il petto con il cuore ciao ciao con le cave con i piedi ciao ciao che meraviglia posso dire che vedere tutto insieme effettivamente mi fa impressione anche a me le mie mie vite perché escono tanti aspetti tanti lati del tuo carattere della tua personalità perché sai come si dice a Napoli sono pazza nel senso io butto sempre il cuore oltre l'ostacolo è tutta una sfida per me la mia vita è una sfida continua quindi se tu mi dici devi fare una cosa io la faccio mi metto di tigni a tal punto che poi alla fine tutto sommato ci riesco l'indole napoletana in questo un po aiuta è tanto devo dire senza nulla togliere a chi vive a Roma al nord insomma al centro al nord e che noi abbiamo un po l'arte dell'arrangiarci questo ci nasce purtroppo anche per il disagio spesso che vivi da qui veniamo in passato insomma il sud il Napoli non è stato per fortuna oggi è una terra rinata è una terra che ha vinto questo è anche l'anno di Napoli direi assolutamente sì però effettivamente impari da bambina ad arrangiarti e quindi sviluppi questa tecnica c'è mia mamma che è napoletana che dice sempre faccia tosta campo faccia molle morì quindi condivido e conosco e comprendo questo approccio quindi capisci lo slang assolutamente sì abbiamo visto delle immagini nel filmato di presentazione di ciao maschio la tua trasmissione grande successo di questa rete e tu inizi sempre le tue interviste chiedendo tre aggettivi ai tuoi maschi ai tuoi ospiti quindi io la rigiro a te come domanda quali sono tre aggettivi per descrivere Nunzia? sicuramente lunatica perché io ho questa differenza d'umore spesso hai presente il letto cardiogramma non è mai piatto è un continuo movimento assolutamente sì di fatto diciamo la cosa che stressa molto mio marito sensibile non sembra ma io posso piangere per tutto cioè anche guardando Heidi con mia figlia per farti capire conosco bene la pratica e il terzo forse si può dire a quest'ora incazzosa lo consentiamo sì perché ogni tanto mi arrabbio come direbbero i giovani sì sono fumantina come direbbero i giovani mi parte l'embolo ti parte l'embolo ci sta anche quello secondo me rientra proprio nella verve nel carattere campano abbiamo qui una scatola quindi io te la porto faccio questa cosa e ti chiedo di aprirla perché dentro ci sono due oggetti che appartengono un po' alla tua vita quindi sapete qualche infiltrato nella mia vita? può essere terribile apri no non ci credo ecco questa sono io la scarpetta e ti spiego perché io volevo essere questo cioè io volevo giocare a basket anche perché come sai sono alta 1,78 diciamo avrei avuto qualche privilegio mia madre non ha voluto e mi ha costretto a fare danza classica da bambina per cui io in realtà piangevo ma lei lo ha fatto per rendermi un po' più gentile io ero molto maschile anche nei movimenti la danza classica ti insegna molto la femminilità la disciplina c'è tanti aspetti all'interno guarda alla fine ringrazio mia madre per le tante cose che ha fatto nella vita per noi figli ma anche per questo perché io ho imparato il rigore e credo che nella vita la disciplina, il rigore, le regole saper stare in alcuni contesti che la danza ti insegna dalle posizioni che devi tenere è sempre utile non bisogna mai dimenticare è quello che ti ha forse anche portata a non mollare mai cioè il rigore e la disciplina del raggiungere un obiettivo importante sì, però poi nella vita vorrei fare canestro beh certo, mi sembra ovvio e ci sei riuscita senti prima hai nominato tuo marito hai detto io mi commuovo, sono sensibile era proprio una cosa che io mi chiedevo una donna così forte, così di polso ha dei momenti poi di fragilità nel suo privato e quando? cioè quando è che si lascia andare? sì, io ho dei momenti di fragilità perché poi essendo anche lunatica ho dei momenti di basso nei quali ovviamente divento molto più fragile è che questo è legato alla mia sensibilità io non sopporto le ingiustizie proprio nella vita in generale quando le vedo quando vedo persone deboli di cui gli altri approfittano quelle cose mi fanno molto cadere a terra con l'umore raccolgono la mia sensibilità e quindi diventano per me elementi di fragilità poi sai, nella vita indossi una maschera per non mostrare a tutti quella fragilità che poi diventa appannaggio dei cattivi tendo a mascherarla però poi esiste quindi come tutti ho la mia fragilità talone d'Achille è mia figlia che se anche ha un raffreddore io divento proprio e sì perché sono una madre apprensiva tua figlia è nata da un amore grande io ti ho sentita raccontare un po' la vostra storia d'amore che inizialmente era una storia segreta perché chiaramente appartenevate a due correnti contrapposte e avete tenuto tutto nascosto finché poi alla fine hai deciso di vivere questa grande storia d'amore sì, noi ci siamo conosciuti quando c'era diciamo chi stava con Berlusconi e chi contro quindi destra-sinistra veramente è stata una storia complicata che abbiamo era un momento conflittuale poi molto conflittuale non è oggi, ieri che abbiamo avuto governi di grande coalizione comunque ci siamo abituati anche a confrontarci fra avversari eravamo nemici, non avversari quindi è stato complicatissimo però poi è stato romantico perché comunque era tutto nascosto erano insomma gite con i cappellini ti ha fatto un po' appenare lui all'inizio? eh, un bel po' devo dire che mio marito è il tipico maschio alfa che si gioca le sue carte e se le gioca bene devo dire che all'inizio è stato molto prezioso con me e io non ero abituata cioè io non ero abituata a un maschio che non mi chiedesse il numero di telefono che non facesse rilevanzi ha lasciato fare a te quel ruolo lì mi ha sfidato sì mi ha sfidato e mi ha sfidato però io sono stata un po' sciocchina sei caduta proprio nel franello beh forse con una donna come te era l'unica strategia vincente sì alla fine lui ha capito che l'unico modo per conquistarmi era sfidarmi se lui fosse stato banale nell'esercizio del corteggiamento probabilmente non l'avrei guardato senti prima hai parlato di tua figlia Gea una cosa che mi ha colpito e mi ha emozionato è che quando sei rimasta incinta e scoperto che fosse femmina il nome è stato facile è stata una scelta immediata per entrambi un po' all'unanimità sì perché devi sapere che io avevo scritto un libro che si chiamava la protagonista Gea che poi ho perso in un trasloco a Roma io vivevo a Roma all'università e Gea in realtà era l'altra parte di me quella parte sensibile più fragile di cui tu parlavi e Francesco mi chiamava Gea mi aveva registrato Gea perché così in Parlamento se squillava il telefono nessuno si accorgeva che era una del Girolamo e che era un problema questa Gea chi sarà mai? chi è questa Gea? e invece ero io il nome in codice e un giorno era proprio all'inizio della nostra relazione sai quando pensi che è un'avventura ci dicevamo se mai dovessimo avere una figlia si chiamerà Gea come la protagonista del tuo libro e poi è nata Gea e non ce lo siamo nemmeno detti era Gea e basta è arrivata Gea nella vostra vita la parte migliore di me che bella questa frase mi emoziona da mamma perché puoi capire assolutamente sì mio figlio penso anch'io che sia la parte migliore di me senti adesso ti aspetta una nuova avventura professionale perché sei pronta per partire con estate in diretta da lunedì da lunedì alle 17 sempre qui chiaramente sul Rai 1 come ti stai preparando a questa nuova avventura guarda ho emozione ma tanta adrenalina cioè sai quando un vulcano sta per esplodere adesso devo andare in video devo raccontare ciò che succede in Italia la cronaca che è quello che faceva già Alberto Matano con ottimi risultati nella stagione invernale sarò con Gianluca Semprini che è un grandissimo professionista ma soprattutto una persona per bene che è un elemento umano importante quando lavori in coppia insomma tu lavori in coppia quindi sai quanto è fondamentale e però vorrò anche fare un po' di compagnia come fate voi agli italiani che sono a casa quelli che non possono andare in vacanza quelli che sono soli che sono tantissimi quindi ci sarà una parte di spettacolo attraverso quello spettacolo spero di regalare un sorriso alle persone che saranno davanti alle tv allora noi ti facciamo l'imbocca al lupo da lunedì è stata in diretta con Nunzia di Pironomo e Gianluca Semprini e ti guarderemo e ti verremo ci guarderemo a vicenda e ti verremo anche trovare grazie grazie adesso ti lasciamo con un sottofondo musicale della nostra band il pallone è il mio cuore